Mi chiamo Shinji Ikari, ho 14 anni, odio mio padre e ho paura delle persone, nel 2015 uso ancora un Walkman. Sei la persona perfetta per guidare un robot gigante e difendere l'intera umanità? Ma papà! Zitto e entra nel dannato robot Shinji! L'angelo si prepara a combattere! I nostri nemici sono angeli! Sì, e in cantina abbiamo un dio suggerato, adesso ammazza lo stronzo! Oddio, odio, 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 svengo! L'angelo è entrato in berserk! Che vuol dire? Non mi è figo per nascondere il fatto che il pilota è una fighetta ed è il robot a fare tutto il lavoro! Mi sono appena svegliato in un ospedale e l'unica cosa a cui riesco a pensare è che sono inutile e che mio padre è uno stronzo! Ah Shinji, mi sono dimenticato di dirti una cosa! Cioè? Abiterà insieme a una trentenne nifomane alcolizzata di nome Misato, la bionda sarà la responsabile del robotone per il suo nome non se lo ricorda nessuno, e gli altri due piloti sono delle ragazze della tua età fisicamente precoci che tra un paio di episodi ci proveranno spudolatamente con te! Mio padre mi odia! Ma che? Dove mi trovo? Perché sei qui? E io che ne so! Perché sei qui? No, davvero! Perché sei qui? Forse perché non ho i soldi per andare da un vero psicologo! Sveglia Shinji, è iniziata una splendida giornata! Devi andare a scuola e farti degli amici! Ti pesta sangue! Mi stai sulle palle e non te la do manco sotto tortura! Beh, almeno la giornata è finita! Allarme rosso! Si prega a tutti i cittadini di restare dentro casa! Diagramma donda blu! È un angelo! Non devo fuggire! 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 Ci serve il tuo aiuto Shinji! Fugo! Davvero? No, ma farò questa sceneggiata un casino di volte! L'angelo ci attacca! Abbiamo solo il 3% di possibilità di vittoria! Come comandante in carica della nerd è mia responsabilità! Sbattemelo altamente delle probabilità e ordinare l'attacco! Ho fatto bene ad assumerla! Vai Shinji! Quest'angelo è a forma di Dildooo! Minaccia debellata! Signoriramisato, perché da quando mi avete scelto come pilota ci stanno attaccando un casino di angeli? Prima non se ne vedevano in giro! Questine di trama Shinji, da domani sarà sicuramente una splendida giornata! Perchè sei qui? Ancora? Perchè sei qui? Sei tu il mio subconscio! Perchè non me lo dici e basta? Sveglia! Ciao! Manco morta! Ciao! Oh! Tu devi essere un nuovo personaggio che ti odia! Oh! Ma in più ho un ciclo che dura 24 giorni al mese quindi preparati all'inferno! Davvero? Ancora? Diagramma Donda Blue è un angelo! Non devo fuggire! L'angelo ci attacchia! Abbiamo lo 0,3% di possibilità di.. Fottiti! Dov'è Shinji? Scusate, sono fuggito un attimo! Domani sarà la stessa storia vero? Perchè sei qui? E basta, buongiorno Mai nella vita Mi stai sul cazzo? Me lo hai già detto Sì ma da oggi abiterò da te e ti rompono i coglioni ogni giorno Allarme rosso Vai Diagramma donna blu, è un angelo Abbiamo lo 0,000 Attacca Perché sei qui? Giorno Fottiti Diagramma donna blu, è un angelo Abbiamo lo 0,000 Muoviti, questi sono in due Perché sei Voglio morire Già Allarme rosso All lavoro Diagramma donna blu, è un angelo Abbiamo lo 0,000 Finji Dentro un vulcano Perché sei qui? Ci rinuncio Allarme rosso Mi ha antecipato Sono andata a dormire con la tuta apposta Diagramma donna blu C'è bisogno? No Perché sei qui? Proviamo in questo modo E tu perché sei qui? Cosa? Perché sei qui? Ehm... Guarda c'è Superman Dove? Ciao Oh Salve Che fa di bello? Niente, solite cose Ah, ok Beh ci si vede in giro Sveglia Shinji Buongiorno signorina Misato Sono emotivamente sconvolta perché il mio quasi ragazzo che non si è visto in questo video è morto Sì l'ho saputo mi dispiace Lo sapevi? Perché non hai detto nulla? Ho solo 14 anni Avevo paura di non essere la persona più appropriata per consolare un adulto in quello stato Davvero hai pensato questo? Certo Sentimenti, sentimenti Donna che piange Emozioni Che devo fare? Che devo fare? Che devo fare? Non sei così immaturo come pensavo? Sai Ikari Incomincio a starmi simpatico Davvero? Sì Ma tanto fra un paio di episodi mi farò esplodere Verrò sostituita Scusa che hai detto? Spostati Shinji Non è ancora arrivata la puntata in cui scopri che Ray è il clone di tua madre Ah ok Allarme rosso Viacramma donda blu È un angelo Abbiamo capito Lo vediamo cazzo Diavolo c'è un occhio gigante che fluttua nel cielo E quando spara fa sentire una fottuta orchestra Mi chiedo cosa sarà mai Che c'è? Io non devo fuggire giusto? No L'angelo ci attacca Abbiamo solo 0,00000000000000000000 Sti cazzi Abbattilo Sì signorina Vittoria Complimenti Shinji Ottimo lavoro Già bravo figliolo Sì Sì Bravo Sei stato fantastico Wow Shinji Grandioso Wow mi sento più sicuro di me stesso Non c'è niente che possa andare storto Hahahaha Growing ego Sc complètement Un momento Session Che Niente Delipasse Certo Significa Qu matéri Con Angelo Sie La 決